Ad Europa è tornata la statua della Madonna Nera dopo aver riaperto la chiesa cattedrale di Biella, rimasta chiusa per due anni a causa di restauri. Sono trascorsi 64 anni, era il 1949 da quando la statua della regina di Europa lasciò il saccello eusebiano della basilica antica e scese in città. Partecipato il pellegrinaggio guidato dal vescovo di Biella Gabriele Mana che ha ricevuto in consegna la sacra effigie dal rettore del santuario canonico Michele Berchi, presenti autorità civili e militari, parola ora all'immagini. Dopo la discesa dal santuario sulla via della fede biellese, l'accoglienza in città, in piazza Martiri della Libertà, da cui è partita la processione verso la cattedrale. L'arrivo tra la folla, la riapertura delle portone del Duomo da parte dell'escovo Mana e dei canonici del Capitolo. L'ingresso della Vergine Bruna con l'esposizione della statua per la venerazione dei fedeli. L'ingresso della statua Dalla redazione di Biella è tutto.